Nessuno mi ha detto perché sono a Berlino, o che dovrei fare qui. Qualcosa riguardo a Captain America, che ha dato di matto. Ok, Peter, ce la fai, ce la fai. Che ti sei messo? Il costume. La valigia, dov'è? Un piccolo miglioramento. Ok, c'è Captain America e Iron Man, la vedova nera. Uh, chi è quello nuovo? Il baragno! Oh, tocca a me! Devo andare, devo andare! È successa una cosa pazzesca! Ho appena combattuto contro Captain America, gli ho rubato lo scudo e gliel'ho lanciato contro... È enorme, adesso devo andare, torno subito! È stata una cosa incredibile, il signor Stark ha detto Ehi, bimbo ragno, e allora sono già in azione e ho rubato lo scudo del Capitano e poi faccio ciao a tutti e poi... Sì, un secondo! Arrivo! Ehi! Si sente tutto. Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.